Come funziona il meccanismo della partita doppia? Proviamo a vedere, di cercare di capire la partita doppia con un esempio. In questa lezione andiamo a vedere con un esempio pratico come funziona il meccanismo della partita doppia. Devi sapere innanzitutto che il meccanismo della partita doppia è quel meccanismo su cui si fonda tutta la contabilità, cioè vuol dire che ogni registrazione contabile deve rispettare il meccanismo della partita doppia e devi sapere, poi le vedremo nello specifico, che il meccanismo della partita doppia si fonda su quattro regole ben precise. Se rispetti tutte queste quattro regole allora la scrittura contabile rispetterà il meccanismo della partita doppia e quindi sarà corretta. Ma andiamo a vedere esattamente con un esempio pratico come funziona il meccanismo della partita doppia. Ovviamente ti farò un esempio con proprio i conti contabili. Andremo a vedere dove inserire i valori, quindi andremo a utilizzare i cosiddetti masterini per sapere esattamente i conti, come si movimentano e anche i valori dove vanno inseriti. Cominciamo col dire che innanzitutto un conto contabile, che lo raffiguriamo con un mastrino, è strutturato in questo modo. È strutturato con due sezioni contrapposte, la sezione a sinistra che è la sezione dare e la sezione a destra che è la sezione avere. Questo è appunto un masterino che andremo a utilizzarlo per fare una scrittura in partita doppia. Quindi facciamo un esempio, ipotizziamo di andare a registrare una fattura di acquisto di merce di 1000 euro più IVA al 22%, quindi 1200 euro. Quindi abbiamo fattura di acquisto di 1000 euro più IVA, quindi un totale di 1220 euro di fattura. Ora, come fare la scrittura correttamente? La scrittura correttamente è impostata in questo modo. Adesso ti farò la scrittura, andrò a inserire i valori nel modo corretto e ti spiegherò appunto perché vanno inseriti lì e poi andremo a vedere quali sono queste quattro regole e andiamo a vedere se le abbiamo rispettate. Questa fattura si registra in questo modo. Innanzitutto avremo tre conti da aprire, quindi disegniamo tre masterini. Il primo masterino lo chiamiamo merce conto acquisti o acquisto merce, quindi è un masterino, un conto che ci indica che stiamo comprando della merce, quindi merce conto acquisti. Questo masterino rappresenta un costo per noi perché noi stiamo comprando della merce, quindi devi sapere che ovviamente tutte le scritture vanno a confluire nel cosiddetto bilancio. Il bilancio è formato da due prospetti, lo stato patrimoniale e il conto economico. Lo stato patrimoniale è suddiviso a sua volta tra attivo e passivo, il conto economico è suddiviso tra costi e ricavi. I costi vanno in dare, cioè nella parte a sinistra, quindi essendo un costo noi mettiamo di questa fattura che è composta da 1000 euro l'imponibile che è il costo, l'IVA e il totale fattura 1220, quindi il costo è 1000 euro e andiamo a inserirlo qui. Poi cosa abbiamo? Abbiamo l'IVA, l'IVA sugli acquisti è un credito, perché? Perché noi lo andiamo a pagare al nostro fornitore ma poi la possiamo recuperare quando andremo a fare la liquidazione IVA, quindi IVA a credito, questo è un credito. Essendo un credito non va nel conto economico ma va nello stato patrimoniale, stato patrimoniale nello specifico nelle attività, le attività stanno a sinistra nella parte in dare, quindi anche qui andiamo a mettere nella parte a sinistra 220, cioè in dare. Ci manca il terzo mastrino, il terzo mastrino è che cosa? È fondamentalmente il debito che noi abbiamo verso il nostro fornitore, quindi debito verso fornitore è uno stato patrimoniale, nello specifico una passività, le passività stanno all'opposto dell'attività, cioè stanno a destra, cioè in avere, quindi andremo a mettere 1220 qui. E questa è la scrittura conclusa della fattura, una scrittura molto semplice però noi dobbiamo andare a capire il meccanismo della partita doppia e se abbiamo rispettato appunto le quattro regole che ti dicevo. Cominciamo col dire che la prima regola della partita doppia ci dice che in contabilità noi andiamo a registrare un valore sempre due volte, quindi noi dobbiamo chiederci, qui abbiamo registrato un valore due volte, cioè vuol dire che sostanzialmente tu non avrai mai una scrittura di questo tipo, cioè per esempio una scrittura con dare e avere, una scrittura con 10 e basta. Deve necessariamente esserci da un'altra parte il valore 10, quindi non può esserci solo un valore 10. Tu mi dirai ma qui io non vedo lo stesso valore registrato due volte, in realtà devi andare a identificare il valore registrato due volte in dare e in avere, quindi qui abbiamo registrato un valore due volte, sì lo abbiamo registrato due volte perché è 1220, in avere abbiamo messo 1220, in dare abbiamo messo sì 1220, semplicemente l'abbiamo suddiviso in due mastrini separati. E questa è la prima regola, fondamentalmente io devo andare a registrare un valore due volte, questo perché in contabilità quando tu hai un valore, quindi ho comprato della merce per 1220 euro, in realtà come sottostante ci sono appunto più conti, non ce n'è mai solo uno, quindi come vedi qui abbiamo registrato due volte 1220 dare e avere, ma in realtà il 1220 rappresenta sia un debito, sia un credito IVA, sia anche un costo. Prima regola, seconda regola cosa ci dice? Ci dice che noi dobbiamo andare a registrare in almeno due mastrini, cosa vuol dire? Vuol dire che tu non potrai trovare una scrittura impostata in questo modo, che sì ha rispettato la prima regola perché ho registrato il valore due volte, ma ho registrato tutto in un unico mastrino, devo avere almeno due mastrini qui, ne avevamo tre addirittura, quindi necessariamente noi abbiamo qui un errore, quindi non può esserci 10, uno dei due 10 non va bene, deve esserci un altro mastrino in cui abbiamo appunto il valore 10. Questa è la seconda regola. La terza regola ci dice che è vero che dobbiamo registrare con due mastrini almeno e dobbiamo registrare il valore due volte, ma dobbiamo registrarlo in opposte sezioni, cioè vuol dire che tu non potrai trovare una scrittura di questo tipo, quindi in cui abbiamo dare e avere, dare di qua a sinistra e dare di qui a sinistra, quindi il 10, 10 tutto a sinistra, perché è vero che noi abbiamo registrato il valore due volte, è vero che abbiamo utilizzato due mastrini, ma abbiamo posizionato tutto in dare, quindi è sbagliato, quindi necessariamente uno dei due dovrà andare dalla parte opposta, quindi dovrà esserci un 10 di qui. Noi qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo registrato appunto il valore 1220 sia in dare sia in avere, quindi non vedi che non abbiamo solo in dare o solo in avere. Terza regola è questa. Quarta regola ci dice che in contabilità non abbiamo valori negativi, cioè quindi non potrai avere meno 10 e meno 10 qui, perché è vero che qui rispetteremo le prime tre regole, ma la quarta no valori negativi, quindi non ci sono valori negativi, in realtà non mettiamo neanche il più davanti, non mettiamo nulla. Questo non vuol dire che in contabilità non ci sono, con il metodo della partita doppia, non ci sono negatività. In realtà se tu vuoi diminuire il valore di un mastrino, di un conto contabile, devi andare a mettere il valore dalla parte opposta rispetto a dove si posiziona, diciamo, fisiologicamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che debito verso fornitore è una passività, va nello stato patrimoniale tra le passività, cioè in avere, quindi fisiologicamente si posiziona in avere. Se io volessi andare a diminuire il valore di questo mastrino, cioè andare a diminuire il mio debito verso fornitore, perché per esempio vado a pagare il mio fornitore, non metto un meno davanti a un importo, semplicemente vado a mettere il valore di qua e quindi ovviamente poi quando devo sapere quanto vale questo mastrino farò avere meno dare e saprò appunto quanto vale questo mastrino. Quindi come vedi in questo esempio abbiamo rispettato le quattro regole della partita doppia. Qual è il succo del discorso? Cioè queste quattro regole cosa ci stanno dicendo? Ci stanno dicendo che in contabilità con il metodo della partita doppia una scrittura è corretta se e solo se la somma dei valori che stanno in dare deve coincidere con i valori che stanno in avere, oppure, se la vediamo in modo diverso, la differenza tra i valori che stanno in dare con i valori che stanno in avere deve dare zero. Quindi qui come vedi 1000 più 220, 1220 meno 1220 fa zero. Quindi nel momento in cui tu hai una situazione tale per cui i valori che stanno a sinistra, cioè in dare, coincidono con i valori che stanno a destra, tu hai una scrittura quadrata. Poi, necessariamente, bisogna dire che una scrittura quadrata non è sicuramente giusta. Diciamo che sei sulla buona strada, hai rispettato le regole. Questo perché? Perché tu avresti potuto, per esempio, mettere i valori sempre 1220 e 1220, ma magari avresti potuto sbagliare il conto, cioè avresti potuto magari mettere, anziché IVA, credito, avresti potuto mettere un costo qui, che il costo va comunque sempre in dare, quindi tecnicamente avresti rispettato le quattro regole. Però la scrittura sarebbe sbagliata se avessi messo costo, costo e poi un debito, perché l'IVA, credito, è un credito e va nello stato patrimoniale, non va nel conto economico, anche se va appunto in dare come i costi. Quindi diciamo che il rispetto delle quattro regole e la quadratura della scrittura è la condizione per dire la scrittura è quadrata, quindi se già non rispetti anche solo una di queste quattro regole, sicuramente la scrittura è sbagliata. Se rispetti le quattro regole e la scrittura è quadrata, poi ovviamente andiamo a vedere se i conti che hai movimentato sono quelli giusti oppure hai fatto qualche errore. Quindi questo è il meccanismo della partita doppia su cui si fonda tutta la contabilità, queste sono le quattro regole che devi rispettare e questo appunto è un esempio di scrittura in partita doppia. Come al solito se hai qualche domanda, qualche dubbio, qualche curiosità, inseriscila pure nei commenti sotto a questo video, sono a tua disposizione per chiarire ogni dubbio. Se questo video ti è stato utile e ti è piaciuto, metti un bel like che mi fa molto piacere e iscriviti al canale per non perderti nessuna delle prossime lezioni di contabilità. Se invece vuoi ricevere in modo completamente gratuito le prime quattro lezioni del mio corso di contabilità online, allora puoi andare sempre nella descrizione sotto a questo video, andare a vedere, c'è un link dedicato, se lasci la tua email riceverai appunto in modo completamente gratuito le prime quattro lezioni del mio corso di contabilità in cui vado a spiegare ovviamente il metodo della partita doppia e tutte le principali registrazioni contabili che devi sapere se vuoi appunto conoscere correttamente la contabilità. Per oggi è tutto, io ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!